Il concetto di privacy è meglio definito come la quantità e il tipo di controllo che hai sulle tue informazioni. Questo controllo non include solo il potere di nascondere o mascherare le tue informazioni personali, ma anche il potere di rivelarle al pubblico. La trasparenza è utile se hai bisogno di guadagnare legittimità agli occhi del pubblico o dei tuoi sostenitori. Bitcoin ti consente di essere trasparente in qualsiasi misura tua voglia. Puoi usarlo per dimostrare singole transazioni o le proprietà di un indirizzo bitcoin. La trasparenza consente inoltre di verificare i conti della tua organizzazione fino all'ultimo satoshi, ovvero l'unità più piccola di un bitcoin, senza rivelare la tua vera identità o posizione. Rispetto ai sistemi finanziari tradizionali, la trasparenza di bitcoin è un'innovazione importante e potente perché consente di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che hai effettuato una particolare transazione. La blockchain non mente e non può essere corrotta. La forma più semplice di trasparenza su bitcoin è quella di collegare due identità mediante delle firme. Le modalità con cui ciò accade dipendono dal software che utilizzi per gestire il tuo portafoglio, ma il principio è sempre lo stesso. Scrivi una dichiarazione verbale e la firmi digitalmente con la tua chiave privata. Ciò non dimostrerà necessariamente che la formazione scritta è vera. Dimostrerà solamente che il proprietario dell'indirizzo ha espresso tale dichiarazione. Facciamo un esempio. Se l'operatore di un sito web afferma di controllare un indirizzo bitcoin e il proprietario dell'indirizzo bitcoin afferma di essere l'operatore del sito web firmando digitalmente un messaggio, è possibile concludere senza ombra di dubbio che i due siano la stessa entità. Sarà quindi possibile inviare fondi all'indirizzo bitcoin dichiarato dall'operatore del sito web con la certezza che i fondi stessi stiano andando verso il destinatario corretto. Puoi anche utilizzare queste firme per effettuare delle dichiarazioni sicure su alcune delle tue transazioni. Ad esempio potrebbe essere necessario dimostrare ad alcuni revisori che hai effettuato una transazione in particolare o che controlli una certa quantità di fondi. Questo è molto utile per le ricevute digitali non cancellabili. Con pochi clic puoi dimostrare ad un mercante d'arte che sei in possesso di fondi sufficienti per acquistare un dipinto di valore o magari dimostrare ai tuoi investitori che hai ancora il controllo del loro denaro. L'Edward Snowden Defense Fund utilizza un indirizzo bitcoin statico per le donazioni di bitcoin. Questo mostra quanti bitcoin sono stati raccolti e permette ai sostenitori di avere la certezza di non essere ingannati nel donare a qualcuno che dichiara di raccogliere denaro per conto della difesa di Snowden stesso. Questo livello di trasparenza può essere utilizzato ovunque per dimostrare che i fondi non vengono sottratti e che il denaro viene speso in modo responsabile.